Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Come potete vedere il pannello della mia portiera è smontato e questo perché volevo portarvi un video su come rappare le maniglie della mia ne approfitto per portarvi anche una guida molto passo passo su come smontare questo pannello quindi andiamo sull'altra portiera e smontiamolo insieme Allora ragazzi gli attrezzi che ci servono sono una brugola, un cacciavite piatto, un cacciavite a stella Detto ciò abbassiamo il finestrino, la seconda cosa importante da fare è levare la luce plafoniera e comunque sia lo metto qua sopra lì e il cavo lo mettiamo, lo appoggiamo dentro al pannello così quando lo sfiliamo non ce l'abbiamo di intraccio Ci leviamo la maniglia, è a incastro e viene fuori Cacciavite piatto, mettiamo nella fessura, facciamo leva verso di noi, viene via lo sportellino Però cominciamo a svitare Mi è caduta dentro però Ora smontiamo quest'altra Smontiamo le viti laterali Una volta fatto ciò dobbiamo levarci questo rivestimento dello specchietto Anche questo è a pressione Lo sganciate dalla sua attenzione E viene via Una volta tolto tutto, svitato tutto, cominciamo a rimuoverci il pannello Ok, adesso come potete vedere Qui ci sta un ferretto Questo è un supporto AC Quindi alziamo la linguetta Una volta tolto Sganciato dalla sede Dobbiamo rimuovere la parte arancione Andiamo ad uscire lo spinotto Della pulsantiera Una volta sfilato quello Ricordatevi sempre Di mettere Il filo della luce pulsantiera Se ce l'avete Dentro il pannello Ecco fatto Ok ragazzi Come avete visto Alla fine è semplice Soltanto che la prima volta Può risultare molto Tosto e duro Anche un po' per la paura di Di non rompere qualcosa E quindi per rimontarlo Seguite tutto Ma all'inverso Quindi partendo da sotto Verso sopra Agganciate tutto Per questo video è tutto Iscrivetevi al canale Lasciate un like se vi è piaciuto E seguitemi su Instagram E su Facebook Ciao a tutti ragazzi